Gradara continua ad essere fra i comuni italiani ambasciatori delle iniziative che celebrano il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. In occasione dell'8 marzo Festa della Donna, l'amministrazione del sindaco Filippo Gasperi è stata parte integrante nel creare la rete che ha tessuto il flash mob planetario Worldwide Kisses Baci dal Mondo, un tributo alla figura di Francesca Darimini, eroina del sommo poeta. In collegamento dal teatro Amintore Galli di Rimini si sono così riuniti in streaming studenti insegnanti di 21 università di tutto il mondo, da Buenos Aires all'australiana Adelaide e da New York alla sudafricana Johannesburg. Contributi di letteratura e romanticismo in tutte le lingue a mostrare quanto sia tuttora forte e contivisa la conoscenza dei canti di Dante, una conoscenza per l'occasione focalizzata sulla figura di Francesca Darimini, coinvolta in parte anche la città di Pesaro con il pianoforte di Ubaldo Fabri che ha proposto musica e canto dell'area di Gioacchino Rossini, la Francesca Darimini. Un evento davvero planetario, 21 università di tutti i 5 continenti. E questo per Francesca Darimini, per Dante, ma anche per noi come più o meno giovani che a volte perdiamo fiducia e speranza, questa è una bella iniezione che oggi ci serve davvero. Nessuno ha voluto mancare, è stata una dimostrazione di coraggio, impegno, ma soprattutto di positività che mi ha lasciato e ha lasciato anche il Comitato Scientifico con me assolutamente stupiti. Una cosa bellissima, questi giovani hanno lavorato proprio in prospettiva, con fiducia nel futuro, con poesia e bellezza, all'insegno di Francesca Darimini e questo per noi non è poco, tutto il mondo. La Francesca Darimini oggi nella nostra contemporaneità afferma due valori fondamentali che la nostra civiltà ha perso purtroppo non persegue con la forza dovuta. Uno è che il matrimonio, la scelta del compagno non deve essere forzata, deve essere libera scelta. Secondo che nella passione e nell'amore uccidono di queste due affermazioni di cui oggi c'è veramente tanto bisogno, Francesca è testimone esemplare. Faremo un anno di circa oltre 30 eventi, tutti all'insegno di Francesca Darimini e naturalmente di Dante.